Salve a tutti ragazzi, oggi come ho detto nel video precedente andremo a vedere il ciclo 4. Per farvi vedere le possibilità del ciclo 4 faremo un piccolo esercizio, ovvero la tavola pitagorica. Allora, perché si chiama ciclo 4? Si chiama ciclo 4 perché il comando per richiamarlo è appunto 4, ovvero per. Il ciclo 4 chiede solitamente tre parametri, ovvero la variabile da dichiarare oppure da richiamare da una variabile da usare già. Allora, facciamo così, 4, io posso scrivere in questo modo e dichiaro una variabile che sarà valida solo all'interno del ciclo 4. 4. Questo qui è come appare il ciclo 4. 4, apro le parentesi, dichiaro la variabile, dico per la condizione e poi l'incremento o il decremento, perché potrei fare anche così. x uguale 10 per x maggiore di 0 e x meno meno, potrei fare anche al contrario. ok. Allora, ricordiamoci il system, altrimenti mi chiude la schermata. vediamo un po', che di solito, generalmente fa la stessa identica cosa, però il ciclo 4 fa una cosa molto più carina. che cosa ho sbagliato? Ho scritto system anziché system, classico errore di quando non dormi la notte. vabbè, 0, 1, 2, 3, tanti saluti. Premere un tasto per continuare. Adesso vi mostrerò una particolarità dei ciclo 4. Noi andremo a dichiarare più variabili. Per adesso facciamo una cosa malvagia. Se alla x è 10 volte, arrivo a 1024. Quindi x, no vabbè, per x minore di 10 sempre, ok. Virgola, y minore, quasi quasi no, per y, quasi quasi non le mettiamo per adesso. x più più, virgola, y uguale y più int y uguale 1. Dobbiamo mettere. E z anche uguale 1. y uguale a y per 2, virgola, y uguale, no, z uguale z per 4. In poche parole, il ciclo 4 può eseguire più operazioni in maniera simultanea, ovvero lavorare anche con 3 variabili. Ce ne possiamo mettere solo 10, 20. Però, il ciclo 4, con una sola variabile, una sola condizione e un solo incremento o decremento, va rapido. È rapido. Facendo così, può rallentare molto, dipende anche dal processore del computer sul quale si eseguono questi codici. x uguale 0, intanto vediamo se funziona, perché. Allora, slash tab, carattere speciale per la tabulazione. Ok, andiamo a vedere. Errore. Quale errore? Allora, expected un qualified id before int. Forse dobbiamo metterci i punti e virgola. Non me lo ricordo neanche io. Sapete, questo non me lo ricordo, lo avevo fatto un po' fa. Ma va, va. Niente. Facciamo un'altra cosetta. Comunque, non vi preoccupate. faremo un'altra cosa. Allora, x uguale 0. A questo punto facciamo direttamente così. Facciamo direttamente questa dannata tavola pedagorica. I cicli 4, come i moduli if, i moduli decisionali e tutto quello che abbiamo fatto finora, si può indentare, annidare. Annidare vuol dire, come ho già detto, inserire uno dentro l'altro. Per infinite volte. Allora, y uguale 0. Poi, y, però dobbiamo fare... Allora, ricominciamo. Inta y uguale 0. y minore di... dobbiamo fare così. x uguale 1. x minore uguale 10. x più più. x, y uguale 1. x uguale 1. x minore uguale 10. x più più. poi, code console out. x per ip... che cappero sto facendo. x per y... però... non servirebbe. però io personalmente lo faccio. Ovvero forzo la macchina ad eseguire prima questo e poi a spararlo in output sulla console. Anche se lo farebbe anche... funzionerebbe anche senza parentesi. ma la mia politica... ho sempre fatto così per mia politica. slash tab... ok... poi... quando il ciclo for qui finisce... console output... end line... di nuovo a capo perché adesso lo vedrete. non ci credo, la finestra non è abbastanza... comunque eccolo, si vede. 1, 2, 3, 4, 5... però è un po' brutta. voglio provare una cosa, non garantisco. faccio lo slash tab... e poi dico di eliminare due spazi. slash b... slash b... vediamo un po' che succede. se funziona... evviva. cos'è che non gli piace? che ho messo punto e virgola qua. ok... che cos'è questo coso immondo? eh? non l'ho mai. forse un solo slash. vediamo un po' un solo slash che cosa fa. dopo la tabulazione. vabbè, un po' più... mettiamo un altro... end line. eh... un altro end line, no? però... su. però così i numeri sono perfettamente alla giusta distanza. e questa qui... detto questo ragazzi... il video finisce qui e... ci vediamo alla prossima. iscrivetevi se non l'avete fatto e lasciate un like se vi è piaciuto. nei commenti se vi interessa potete anche suggerirmi esercizi o problemi informatici da risolvere. sarò felice di pubblicarli nei seguenti video. grazie. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti.